Bentornato a tutti in un nuovo video del Verone. Oggi andremo a svelare i segreti, i misteri che si nascondono dietro le streaming di TikTok dei cheater. Chi ha un cellulare e sul cellulare ha TikTok scaricato, si sarà trovato almeno una volta una streaming di questo genere. Come si presentano queste streaming? Si presentano con un tizio che sta cheitando in modo palese, al massimo delle sue potenzialità con un FOV sparato, avrà qualcosa tipo 400 di FOV, una bella scritta in alto con scritto Linkinvio, un Imbot sparato a 2000 e il Superslide che vedremo adesso. Allora, per prima cosa, che cos'è questa grande scritta con scritto Linkinvio? Guardate qua quanto ce l'ha sparato l'Imbot. Che cos'è questa grande scritta Linkinvio? In generale, questi personaggi, qual è il loro scopo principale? è farvi entrare nel loro Discord, nella quale vendono i cheat. Di fatto, perché questi streaming avvengono su TikTok? Ecco intanto il Superslide. Perché avvengono su TikTok? Perché TikTok è una delle poche piattaforme che ti dà una certa visibilità, nel senso che vieni scoperto anche da persone nuove che magari non ti seguono. Nel suo caso, vediamo che questo ragazzone ha ben 27.000 follower su TikTok, ne ha quasi quante me, quindi insomma, uno si è fatto anche il suo dischieto culo per avere tutti questi follower. In ogni caso, a differenza di Twitch, che è una piattaforma safe, dove all'interno non puoi cheatare. Su Twitch, se tu fai una streaming e ti si vedono i cheat, o chitti, o viene accusato di cheating in modo, diciamo, palese, cioè se vieni sgamato con dei cheat, con delle prove, ok? Twitch ti può bannare. Twitch ti banna, anzi, se tu chitti e Twitch è sicura che tu chitti, Twitch ti banna. Quindi Twitch è la piattaforma più sicura. Mentre TikTok, Facebook e altre piattaforme non hanno questa tipologia... Sentite qua? No, non è normale questo. E dicevo, il Facebook appunto, come anche YouTube e TikTok, non hanno una regolamentazione a riguardo. E queste sono le piattaforme dove potremmo trovare dei cheater in azione, diciamo. Quindi il loro scopo, in sostanza, è cercare di vendervi il servizio, questi servizi di cheat, che però realisticamente loro ve li vendano come non sgamabili. E ora, invece, argomenteremo un po' più avanti su, invece, la loro affedabilità. Ovviamente questi cheat sono a cifre molto, molto basse. Come sappiamo, i cheat che costano poco sono quelli più sgamabili, perché è ovvia... una ovvia ragione. Più i cheat costano meno e più vengono, diciamo, venduti al pubblico, e più Ricochet impara a sgamarli. Di conseguenza, cosa succede? Ricochet, magari, tutte le volte che tu fai l'accesso, controlla quello che hai sul computer e legge, quando fai l'accesso, quali programmi stai utilizzando in quel momento. Noi... ti fa entrare nel gioco. Ricochet, a differenza di altri giochi, dove ci sono degli anti-cheat diversi, ti fa entrare nel gioco, anche se tu hai un potenziale cheat o un programma non riconosciuto. Quindi tu entri, il tuo account viene assegnato, gli viene assegnato i codici sorgenti dei programmi che tu utilizzi, stai utilizzando in quel momento, quindi magari hai Discord, che sono programmi safe, oppure hai, magari, un wallacchino. Più questi programmi che poi si rivelano cheat vengono utilizzati, più persone vengono segnalate, e più questi, appunto, cheat vengono associati a proprio un caso di cheating all'interno del gioco, più Ricochet li sgammerà facilmente. È per questo che magari ci sono persone che hanno, magari, un cheat privato, quindi un cheat, magari, un po' più costoso, oppure se lo sono fatti da soli, riescono, magari, a rimanere, magari senza ban, magari usando un wallacchino, o un qualcosa, comunque un cheat privato, e magari riescono a cheatare per più tempo. Ok? Qui intanto, boom, doppia, tutti in testa. E, quindi, magari, sì, certo, ci sono, magari, persone che vengono sgamate con più difficoltà rispetto ad altre, ma sicuramente questi qui, questi cheater qua, che vedete, sono persone che non durano più di una partita. E ora mi direte, Vieri, ma io ho guardato la streaming per un minuto, due minuti, tre minuti, cinque minuti, dieci minuti, venti minuti, ma non sono mai stati bannati. Allora, su questo vi posso dire che vi sbagliate sicuramente. Io ho questa streaming qua, come vedrete, l'ho registrata per 24 minuti, quindi me lo sono gustato, me lo sono guardato per ben 24 minuti, sia le sue imbottate pesanti, sia le sue bottate pesanti, dove si faceva uccidere dalla gente. E ho capito un po' come gestiscono queste streaming. Allora, per prima cosa, una streaming su TikTok, ovviamente basta avere un PC, come ho quello di sinistra, e io posso riprodurre a schermo ciò che voglio. Quindi, praticamente, cosa succede? Io, ad esempio, quando streamo su TikTok, ho fatto una stream di TikTok dove facevo vedere che ero su Rebirth, un po' per vedere la reazione del pubblico, e per vedere come avrebbe reagito il pubblico a vedere di nuovo Rebirth, e a vedere una mia live su Rebirth. E come fa? È molto facile da fare. Te prendi, attivi lo schermo, e mandi ciò che vuoi far vedere, ok? Quindi, potenzialmente, tu puoi fare una diretta anche non in diretta. Di fatto, cosa fanno loro? Essenzialmente, tanto lui ha 24 bombe, 64 live, un numero veramente spropositato di kill. Qua, diciamo che Enrico Certo non è che ha fatto proprio il suo lavoro, lo dovevamo buttare un po' in o fuori prima. Che cosa fanno loro? Registrano magari una decina di gameplay, 1, 2, 3, 5, insomma, quelli che sono, con un account, o più account, o 3, 5, 6, 7, 8 account diversi, li registrano, e poi li rimandano in loop. Ovvero, montano magari una serie di gameplay dove fanno tante kill, si mostrano che i loro cheat funzionano, e che non vengono bannati, ma in realtà non si vede, si vede anche magari i momenti dove vengono buttati fuori dalla partita e non trovano più partite, come vedremo tra poco. E di conseguenza questa è un'ottima mossa per far credere alle persone che magari non non vengono bannate. In realtà semplicemente le persone li rimangono a vedere magari per un minuto, due minuti, tre minuti, niente di più, e dicono mamma mia che merda Warzone, non bandano mai nessuno, questi vengono i cheat così liberamente. O magari qualcuno entra e li prova anche e li scarica o gli ricompra per poi trovarsi bannato nel giro di una partita e chiedersi il motivo. Il motivo appunto è presto detto, il fatto che loro semplicemente ti abbiano abbindolato completamente con questo metodo. Tanto ragazzo vediamo qua, questa lì l'ho vista, non è nemmeno male, spara, cioè nel senso sa muoversi. guarda come come gestisce il fight, però ovviamente sa anche un po' troppo diciamo degli avversari. 27 kill 40 live intanto. Vediamo anche vediamo anche una bella cecchinata con 400 di fob com'è? Guardate l'arma è tipo bruttissima, sembra minusca, io non so come faccio ad agiare con questa roba qua. Boom! Assurdo, manco si vede il mirino, incredibile. Evasione imminente, rientra un sacco di gente, il nostro cittone prova a sparare e niente, Ricocetto l'ha beccato, Ricocetto l'ha beccato, disconnesso dal server. Il nostro ragazzone proverà a ricercare la nuova partita, aspetterà un minuto, ne aspetterà due, ne aspetterà tre, ne aspetterà quattro, ne aspetterà cinque, ne aspetterà sei, il ping sale, ma la partita non si trova, è diversi minuti che il ragazzone non riesce ad entrare più in lobby. Ed ecco qua che annulla la ricerca e magicamente ci troviamo in un'altra lobby, eccoci qua ragazzi, siamo di nuovo in lobby. Questo perché ha semplicemente cambiato gameplay. Ecco qua svelato il trucco dei tiktoker streamer cheater. Un bacione al Verone, spero che il video e il content vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace, mi raccomando, per supportarmi, un bacione al Verone. Ciao a tutti.